8 MARZO, SAN GIOVANNI DI DIO, CONFESSORE Questo giorno del mese scorso stavamo celebrando la festa di San Giovanni di Mata, la cui virtù caratteristica era la carità, il nostro santo di oggi era come lui, l'amore per il prossimo lo portava a dedicarsi al servizio di coloro che più avevano bisogno di aiuto. Entrambi sono per noi esempi di quello che è un dovere principale di questo tempo presente, sono modelli di carità fraterna. Ci insegnano questa grande lezione, che il nostro amore per Dio è falso, se i nostri cuori non sono disposti a mostrare misericordia al nostro prossimo e ad aiutarlo nelle sue necessità e nei suoi problemi. È la stessa lezione che il discepolo amato ci dà quando dice, colui che ha la sostanza di questo mondo, e vedrà suo fratello nel bisogno, e metterà la sua misericordia da lui, come dimora in lui la carità di Dio? 1 Giovanni 3 e 17, Ma se non ci può essere amore di Dio, dove non ce n'è per il prossimo, l'amore del nostro prossimo stesso non è genuino, a meno che non sia accompagnato dall'amore del nostro Creatore e Redentore. La carità che il mondo ha istituito, che chiama filantropia, e che esercita non in nome di Dio, ma unicamente per amore dell'uomo meno questa presunta virtù è una mera illusione, è incapace di produrre amore tra chi dona e chi riceve, e i suoi risultati devono, necessariamente, essere insoddisfacenti. C'è solo un legame che può far amare gli uomini gli uni gli altri, quel legame è Dio, che li ha creati tutti e comanda a tutti di essere una cosa sola in Lui. Servire l'umanità per se stessa significa farne un Dio, e anche osservando il funzionamento dei due sistemi in questo unico punto di vista, il sollievo che offrono alla sofferenza temporale, che paragone c'è tra la mera filantropia e quella carità soprannaturale degli umili discepoli di Cristo, che fanno di Lui il motivo e il fine stesso di tutto ciò che fanno per i loro fratelli colpiti. Il Santo che onoriamo oggi si chiamava Giovanni di Dio perché il nome di Dio era sempre sulle sue labbra. I suoi eroici atti di carità non avevano altro motivo che quello di compiacere Dio, solo Dio era l'ispiratore del tenero amore che aveva per i suoi simili sofferenti. Imitiamo il suo esempio, perché il Signore ci assicura che considera fatto a se stesso tutto ciò che facciamo anche per il più piccolo dei suoi discepoli. La liturgia ritrae così le virtù del nostro Santo. Giovanni di Dio è nato da genitori cattolici e virtuosi, in Portogallo, nella città di Montemor. Alla sua nascita, una luce brillante brillò sulla casa, e la campana della chiesa fu udita suonare da sola, Dio evincendo così a quali grandi cose destinò a questo suo servo. Per qualche tempo cadde in un modo di vivere l'assista, ma fu reclamato dalla grazia di Dio e condusse una vita molto santa. La sua conversione fu effettuata ascoltando un sermone, e praticò con tanto fervore gli esercizi di una vita devota, che, fin dall'inizio, sembrò aver raggiunto l'apice della perfezione. Diede tutto ciò che possedeva ai poveri che erano in prigione. Straordinarie furono le penitenze che si inflisse, e il disprezzo che aveva per sé stesso lo indusse a fare certe cose, il che portò alcune persone ad accusarlo di follia, tanto che fu per qualche tempo confinato in un manicomio. La sua carità è aumentata solo da tale trattamento. Raccolse elemosine sufficienti per costruire due grandi ospedali nella città di Granada, dove iniziò anche il nuovo ordine, con il quale arricchi la chiesa. Questo ordine si chiamava Istituto dei Frati Ospedalieri. Il suo scopo era quello di assistere i malati, sia nei loro bisogni spirituali che corporali. Il successo è stato molto grande e ha avuto case in quasi tutte le parti del mondo. Il santo portava spesso i poveri malati sulle proprie spalle all'ospedale, e li forniva loro tutto ciò che potevano desiderare, sia nell'anima che nel corpo. La sua carità non era confinata entro i limiti dei suoi ospedali. Forniva segretamente cibo alle vedove indigenti e alle ragazze la cui virtù era esposta al pericolo. Nulla poteva superare lo gelo con cui egli si adoperò per reclamare ciò che era accaduto in peccati di impurità. In occasione di un immenso incendio scoppiato nell'ospedale reale di Granada, Giovanni si gettò senza paura in mezzo alla fiamma. Attraversò i diversi riparti, prendendo i malati sulle spalle e gettando i letti attraverso le finestre, in modo che tutti fossero salvati. Rimase mezz'ora in mezzo alle fiamme, che infuriavano con furia selvaggia in ogni parte dell'edificio. Egli fu miracolosamente preservato dalla minima ferita, e uscì con stupore di tutta la città, insegnando al popolo, che era stato testimone di quanto era accaduto, che, nei discepoli della carità, c'è un fuoco nei loro cuori più attivo di qualsiasi altro che possa bruciare il corpo. Tra le virtù in cui eccelleva meravigliosamente, si possono menzionare le sue numerose pratiche di mortificazione corporea, obbedienza profonda, estrema povertà, amore per la preghiera, contemplazione e devozione alla Beata Vergine. Possedeva anche, in misura straordinaria, il dono delle lacrime. Alla fine, ammalandosi gravemente, ricevette con fervore gli ultimi sacramenti. Sebbene ridotto a uno stato di totale debolezza, si vestì, si alzò dal letto, cadde in ginocchio, prese devotamente il crocifisso tra le mani, lo premette al cuore e, baciandolo, morì l'otto delle id di marzo, 8 marzo, nell'anno 1550. Rimase in questo stesso atteggiamento, con il crocifisso ancora in mano, per circa sei ore dopo la sua morte. L'intera città venne a vedere il cadavere santo, che emanava un profumo celeste. Il corpo è stato quindi rimosso, in modo che potesse essere sepolto. Dio onorò il suo servo con molti miracoli, sia prima che dopo la sua morte, e fu canonizzato da Papa Alessandro VIII. Che vita gloriosa fu la tua, o Giovanni di Dio! Era una carità e di miracoli operati dalla carità. Come Vincenzo di Paolo, tu eri povero e, nei tuoi primi anni di vita, un pastorello come lui, ma la carità che riempì il tuo cuore ti diede il potere di fare ciò che l'influenza e le ricchezze mondane non possono mai fare. Il tuo nome e la tua memoria sono cari alla Chiesa, meritano di essere tenuti in benedizione da tutta l'umanità, poiché hai speso la tua vita nel servire i tuoi simili, per amore di Dio. Questo motivo ti ha dato una devozione ai poveri, che è impossibile per coloro che fanno amicizia con loro per mera simpatia naturale. La filantropia può essere generosa e il suo funzionamento può essere ammirevole per l'ingegno e l'ordine, ma non può mai considerare il povero come un oggetto sacro, perché rifiuta di vedere Dio in lui. Pregate per gli uomini di questa generazione, affinché possano a lungo desistere dal pervertire la carità in un mero meccanismo di sollievo. I poveri sono i rappresentanti di Cristo, perché egli stesso ha voluto che fossero tali, e se il mondo rifiuta di accoglierli in questo il loro carattere esaltato, se nega la loro somiglianza con il nostro Redentore, può riuscire a degradare i poveri, ma proprio questo degrado li renderà nemici del suo insultatore. La tua predilezione, o Giovanni di Dio, era per i malati, hanno pietà, dunque, dei nostri tempi, che sono ambiziosi di eliminare il soprannaturale, ed escludere Dio dal mondo con quella che viene chiamata secolarizzazione della società. Pregate per noi, affinché possiamo vedere quanto sia malvagio aver cambiato il cristiano per lo spirito mondano. Accendete la santa carità nei nostri cuori, affinché in questi giorni, quando ci sforziamo di attirare su di noi la misericordia di Dio, possiamo anche mostrare misericordia. Possiamo noi, come hai fatto tu, imitare l'esempio del nostro Beato Redentore, che si è donato a noi che eravamo Suoi nemici, e si è degnato di adottarci come Suoi fratelli. Proteggi anche l'ordine che hai istituito e che ha ereditato il tuo spirito, perché prosperi e diffonda in ogni luogo il dolce odore di quella carità che è il suo stesso nome. Uguale 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 uguale. Questo testo è tratto dall'anno liturgico, scritto da Don Prosper Gueranger. Grazie a tutti.